ben ritrovati ma perchè sei troppo moscio siamo tornati in un nuovo video di lego marvel avengers di lc con l'inquadratura storta e pazienza è importante che non si tagliano le cose capte in marvel classico iniziamo la storia vabbè adesso scompare tutto è proprio storto ma chi se ne andiamo oh perfetto eccolo eccolo ho cose riportate da panico pancax e mentre eravamo nel palco la mia amica è stare a pancax decide di sboccare tanto io è cattiva lei guarda che bello bellissimo ma io non me la sono venuta ok minichita era sicuramente una trappola bellissimo c'è anche capte in america puoi andare di là puoi andare di là di là dove penso dal coso d'oro penso eh ci sono le monetine il mitico raggio cos'era raggio unico raggio unico ok lei 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 si può si vabbè se non potesse sarebbe in effetti è cattina in marvel c'è altro che cattina in america vento ahhh ok stiamo a debita distanza scudo una croccia che cade dal cielo guarda che bello il parco proprio bello cos'è? a me dei segreti più o meno pound cakes ma quella è un arco di trionfo che bello con la sua attenzione ma era chiaramente molto contrariata dovevano agire alla stessa questo è abbastanza guidato come livello normale gioca con l'acqua wow vai vai fregatene scanner non scanner variando mossa insieme cosa sta facendo? stava battendo le mani ahhh 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 perché si è bagnata con l'acqua ahhh un fatto un incidente che aveva tolto bene due vide di botto ehhh ma forse gli ha tolto il fulmine evidentemente si una ce l'aveva già tolto e fu allora che il pound cakes andò su tutte le furie e mi schidò un match di wrestling solo io e me uhhhh bello sto combattimento epico sempre più veloce test boh mamma mia come è volare bellissimo questo livello stiamo parchi beh adesso young rome immaginavo che fosse dietro a questa foglia pare che voglia distruggere la mia adorata città e anche io parlo non se ne parlo ho appena sistemato l'appartamento guarda cazzo speriamo che qui in cima che vi dica la grande nela ha uno studio ok wow bello anche questo fatto bene sono i palazzi al contrario bello ecco perchè amiamo i videogiochi nego perchè fanno bene le cose che sono belli ma anche se alcuni necessitano gli aggiornamenti anche se non è possibile perchè sono talmente vecchi super cattivone super cattivone super cattivone stava utilizzando le peggie dell'orsica e mannitron ancora conficcate nel mio corpo per i suoi piani malbaci lui è mannitron di questo potere young rome aveva preso il nome di mannitron e voleva ricostruire un'intera città per poi stagliarla sul mio occhio dei piccoli killer croc che sono come sono ma che sono delle lei si delle lei detto così muo uh piovono monete ah è già sturdito non hai manco toccato che scarsone ma cosa era stranissimo ogni volta che mannitron trovava dolore lo sentivo anch'io come se fossimo connesso e perdevo potere ogni volta che mi compagino peccato ma ci sarà una storia dietro per forza dai capitano america poi potrebbero far usare dei personaggi del pacchetto dopo il capitano america è giunto evidentemente boh forse si o tutti gli altri sono cattivi chi lo sa quindi carte in mare c'è una cosa allucida c'è un sacco di poteri l'unica cosa che li manca è uno scudo diventava molto più difficile per fortuna caso aveva portato la sua moto super potenziata secondo me stanno insieme si sono amanti eh si hai visto negli uffici allora aspetta no no è uguale lascia stare meglio tu con i punti strani tu con i punti strani non andate un po' d'accordo come sta sentita tranquilla in una moto mentre la città viene distrutta boom un minuto prima boom si troppi rompi quella roba di quelle casse carine io ho lanciato un'occhiata povero cazzo carte in america non è esatto che carte in america non c'è ok trovo quelle casse lì mi piaccio quelle casse queste sono talmente carine perchè distrugge che vogliono le monete si queste sono colorate pensavo piovessero monete beh ce le sono boom colpito oh monetina viola mamma mia occhio lì quei posti sono brutti per quanti costrutti e tirapiedi riuscissimo a eliminare magnifor nero cava degli altri da mandarci contro che bella possiamo trovare una soluzione permanente cioè questo affare sarà tipo una cantina sopra il palazzo può cioè tipo qualcosa bisogna spaccare si è bello uh salta tutto mamma mia piovono pezzi lego ah c'è ancora questa tizia un tizio non lo so carino sto arrivando non mi piace a differenza magari di altri più non c'è l'improvvisazione non c'è l'improvvisazione oh ah caluto questo esce vai devo buttare cosa dopo qualcosa d'oro a lui a lui meno male cosa d'oro sarà stato un mini kit usiamo un po' bene la cosa d'oro parlando di mal di testa ogni volta che provavo a volare avvertivo un dolore lancinante alla testa probabilmente a causa del potere sottratto da panico uh quanto sono bene le monetine ecco questi epici combattimenti uh è stato ucciso così ah no sembrava troppo facile no posso posso sono io eh sì difenza di pound cake è strano ma è come se l'origine del suo potere col cinese con quella del mio magneto dai guardandoli pensare il legame solo allora potremo sconfiggermi più mi allontano da lui e più sento che la mia mente svanisce più perdo me stessa ah spero che il gatto si fuori cosa finito così particolare cioè e quindi un nemico quell'altro quello che fine fa magnetron no magnetron aveva le manette ma l'altro non si è proprio visto ma magnetron aveva boh oh magnetron aveva le manette si aveva le manette capitanin america l'ha preso come un nemico particolare vabbè che era a livello carino bisogna dire ok se lì non l'abbiamo salvato molto veloce fortunatamente mini kit zero si è molto easy un livello rapido ok bene un incubatore continua la storia cioè continua ok e quella lì è un mini kit no che mini kit è una cosa che no madama b è quella lì di danza ah si vabbè insomma rilasciamo con madama b captain a merve a merve captain marvel mister avengers a marvel parte 2 bianco e nero questa parte 2 finisce qui il livello speriamo vi sia piaciuto fatecelo sapere con visualizzazione eccetera le cose e a presto 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 a presto